Ciao, Max Braga, 39, vengo da Verona, non l'ho ancora capito, che cosa dicono gli altri? Faccio, dicono che faccio le unghie, lo dicono loro, sono 13 anni, è stato un caso, è stato un momento un po' così, ho dovevo cambiare lavoro per esigenze di salute e sono inciampato in un negozio di unghie e lì ci sono rimasto, è stato un caso. La creatività, l'espressione dell'arte in miniatura, mi piace la precisione, sono quasi maniacale, mi piace l'ambiente, comunque lavorare su delle unghie, chi si fa le unghie sono persone che si curano e di conseguenza è un ambiente bello. Il rapporto che ho con le mie donne è amore-odio, amore perché ci si innamora del lavoro, odio perché loro vogliono cose che io non voglio fare, io voglio fare cose che loro non vogliono. Chi vince? Io. Sei innamorato? Sì. Sei innamorato? Sì. Da quanto ti è? 14 anni. E dove è andato a dormire questa storia? Spero in paradiso. Niente, figura.